questo sarà un contenitore importante Sandro te la senti di darci un anticipo sui contenuti di questo te parlo il Presidente del Cenobb che ha avuto un'idea e l'ha stata promuovendo Vabbè i rappresentanti del Cenobb, Gaspar Eccolo, ti posso chiedere a Gagliongo? Sì Presidente, tu devi rispettare la piccola risoluzionale Eh beh, tu non volete a... il tuo concorrente? Sì, ma non volete, no? Scusa Gaspar, c'è un Presidente, però le cose corali vengono pure qualsimegno se facciano più bui, le limiti vanno a parte sempre del Presidente Il Presidente raccogge le fiume! Si, mi sono andata con un po' No, e mi si tru... Scusa, ti sto dicendo, ok? Si da, si, si lo faceva riferente Calcio, l'abbiamo a parte i tuoi E' il fatto, ero... Ce l'ho più un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.